io ho ritenuto che siamo già adeguati per poter fare questo giro c'è il giro questo lo spiegone di vasco e saliamo su al parco dei jessi li faremo un giro ad anello all'interno del parco dei jessi e lì ci sono dei pezzi molto tecnici però insomma si fanno siamo tutti in grado di farlo poi dopo scendiamo di giù di nuovo verso la pulce risaliamo per via di gaibola e anche lì ci sono dei pezzi abbastanza tecnici ci sarà anche del fango ci sarà anche un po di fango perché ha piovuto e quindi ci sarà sicuramente del fango e anche perché anche perché il giro prevede al 90 per cento sterrato è oggi quindi insomma però la famosa argilla dei jessi di san l'altro è la famosa l'argilla dei jessi lo dice la parola stessa vieni con noi a dove va al palazzette dove è il palazzette vai qua sinistra via la famosa stessa vieni con noi a doveva a chiare il mondo è il palazzo e la famosa stessa vieni con noi a doveva a chiare il mondo è il palazzo Grazie a tutti. 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 Ciao Dolina. Ciao Dolina. Grazie a tutti. Ciao. 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 Vai, 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 vai. Ciao. 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 Ciao.